Buongiorno a tutti, oggi vi parlo della Bombay Black di Nabla, questa matita nera a lunghissima tenuta. Il prezzo è 7,50€, 1,2 grammi di prodotto, 24 mesi alla scadenza. Come colorazione esiste anche un altro grigio freddo con paiozze dorate che si chiama Golden Hates e poi credo sia sempre molto simile la Magic Pencil uscita da poco, quella color carne. Ha un'alta pigmentazione ed una durata davvero folle ed è un nero opaco. La utilizzo tantissimo sia all'interno della rima sia tra le ciglia sfumata. Si sfuma benissimo anche se ha un fissaggio molto veloce, quindi vi consiglio di applicarla e fissarla immediatamente. Quindi magari l'applicate su un occhio, la sfumate, ma è applicarla qui e qui e poi iniziare a sfumare di qua. Quindi sfumate man mano che applicate la matita. Un pro sicuramente è la pigmentazione e la durata, nonché il fissaggio, perché appunto si fissa da sola e dura davvero, dura tutta la giornata. Io spesso la metto alle 8 di mattina, esco, vado a lavoro e la sera è un po' sbiadita, ma c'è. Quindi non cola. Mi piace tantissimo proprio perché è una matita con cui ho la sicurezza di uscire e quindi non è una matita che magari mi dico in mente mia, ma durerà tutta la giornata. Sono sicura che durerà tutta la giornata e quindi l'applico con piacere. Si strucca con un normale struccante bifasi con acqua micellare. Il contro appunto magari può essere semplicemente che si fissa rapidamente, ma fondamentalmente quando ci fate la mano non è nemmeno più un contro. Quindi io ve la straconsiglio. È tutto, spero che questa recensione vi sia stata aiuto. Fatemi sapere se anche voi vi ci siete trovati bene, ma soprattutto fatemi sapere se anche le altre matite della stessa linea linea sono simili. Così magari li acquisto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione e alla prossima!